In vista della possibile apertura del tavolo contrattuale si torna a parlare del problema degli stipendi del personale della scuola. Un tema che è emerso negli ultimi giorni è quello della differenza fra le retribuzioni dei dirigenti scolastici e quelle degli insegnanti. A riaprire questa discussione ha contribuito anche la sortita della MP che parla di stipendi dei dirigenti da rivalutare almeno nella misura di 20.000 euro all'anno. In una consistente rivalutazione degli stipendi dell'intero comparto confidano per la verità tutti quanti. Le speranze sono riposte anche nelle parole pronunciate qualche giorno fa proprio in Parlamento dal Ministro Bianchi e nelle stesse rassicurazioni contenute nel Recovery Plan che parla esplicitamente di valorizzazione della professionalità docente. A frenare gli entusiasmi ci sono però alcuni dati assolutamente inconfutabili. Per ora le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono piuttosto contenute, non si va al di là del 4% complessivo. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli lamenta un'insufficiente retribuzione dei dirigenti scolastici e afferma che risulta scandaloso il divario retributivo tra un dirigente di una scuola e quello di un ente di ricerca. Sul fronte opposto Rino Di Meglio, coordinatore di Gilda Insegnanti, fa notare invece che ad esempio in Australia il dirigente guadagna l'85% in più di un proprio docente. Si sale al 136% nel Regno Unito, quasi due volte e mezzo, e in Italia si arriva addirittura al 160%, quindi più di due volte e mezzo è la retribuzione di un dirigente scolastico rispetto a quello del suo docente, di un docente medio in cattedra. Ma ci sono anche i commenti dei lettori della tecnica della scuola, interessanti, che dichiarano sui nostri profili social che ad esempio in Italia si sperpera una montagna di quattrini a debito per i corsi estivi che peraltro i ragazzi si guarderanno bene dal frequentare piuttosto che ripristinare un dignitoso livello salariale per i docenti. C'è chi chiama in causa anche la parità uomo-donna e osserva che l'85% degli insegnanti è appunto donna e che gli stipendi delle docenti sono lo specchio esatto della considerazione che l'Italia ha per le donne, sottopagate, precarie, disprezzate. Ad ogni modo, al di là delle buone intenzioni del Ministro e delle richieste più o meno perentorie delle organizzazioni sindacali, nel concreto per ora non c'è alcuna possibilità che con il prossimo contratto si riduca il divario rispetto agli stipendi del resto del pubblico impiego. Si parla sì di un fondo speciale per la scuola, fondo che peraltro già esiste e che è finanziato oggi con soli 10 milioni di euro, ma neppure se venisse decuplicato avrebbe effetti visibili. C'è chi pensa di utilizzare una parte dei fondi del Recovery Fund per migliorare le retribuzioni, ma va detto che questa ipotesi è da scartare a priori in quanto le regole comunitarie non consentono oggi che i fondi europei vengano impiegati per questo scopo. Su questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati perché è un tema molto attuale che ovviamente interessa tutto quanto il comparto scuola, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it mandateci le vostre lettere, i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.